In questo video voglio farti vedere i passaggi che faccio quando ho un file di coordinate che ho rilevato in campo con un ricevitore satellitare in questo caso in modalità NRTK e le voglio trattare per poter creare un file di testo da importare all'interno del software Structure from Motion e quindi associare a queste coordinate dei marker o dei target o meglio associare le coordinate che ho elaborato, che ho misurato in campo ai target e marker che ho individuato all'interno delle immagini nel progetto del software di Structure from Motion. In questo video ti condivido proprio tutti i passaggi che faccio, non è detto che siano i passaggi migliori da fare, probabilmente ci sarà qualcuno che fa molto prima di me anche in base a quello che gli dà in output il controller o il dispositivo che ha utilizzato in campo per registrare i dati dal ricevitore satellitare e che ha utilizzato per esportare questo file di testo. Io lavoro con un file di testo, un file txt, ti faccio vedere i passaggi che faccio e utilizzo anche un foglio di calcolo che mi sono costruito nel tempo e che ho un po' affinato nel corso di questi anni. Ti ripeto, è davvero una condivisione di quello che è il mio processo e mi fa piacere condividerlo con te e spero che se tu hai un processo più veloce, più intelligente, più efficace, magari ti va di commentare e di darmi la tua opinione o quelli che sono i tuoi punti di vista per rendere ancora più efficiente questo progetto. Andiamo subito dentro, è un lavoro che effettivamente devo fare e quindi non ho ancora trattato questi dati, lo faccio per la prima volta registrando questo video, quindi è tutto quanto in diretta. Prima ti faccio vedere il foglio di calcolo che utilizzo e qui ho già scritto un po' di cose che non c'entrano a niente. Questo è un foglio di calcolo che io mi sono creato, dove ci sono dentro un po' di formule, molto semplici, poi magari te le commento a mano a mano che ci entro nel dettaglio e ci sono tre fogli, un tab generale, un tab che mi serve per preparare il file che poi verrà trattato dal software Interpolatore Convergo perché questi dati io li tratto con Convergo utilizzando i grigliati GM e poi qua c'è un altro foglio che riguarda il file che mi servirà per portare in output il file TXI da usare all'interno del software Structo From Motion. Il software che utilizzo per la maggior parte dei casi è Metashape e quindi io ho chiamato questo tab Metashape, avrei potuto chiamarlo SFM. Questi dati che vedi sono dati che non c'entrano niente con i numeri che elaborerò in questo video perché sono dei dati che c'erano già in questo foglio e li tengo, comunque questi dati andranno via. Il dato che utilizzo è questo, ho aperto con Notepad++ questo file TXT dove ci sono dentro tutte queste misure, sono misure GNSS che io ho fatto in campo ed ho utilizzato uno strumento in modalità NRTK. Questi dati sono dati che li ho esportati utilizzando le impostazioni che ho nel controller dello strumento, in questo caso io ho utilizzato uno strumento Geomax Zenith 20, il controller è un controller Android rugged e il software che utilizzo per acquisire dati e per asportarlo, in questo caso è stato X-Pad Ultimate Fusion, no, Ultimate, X-Pad Ultimate, non vorrei dire delle cose sbagliate. Ho chiesto di avere in output un dato abbastanza scarno perché a me servono queste informazioni, puoi avere un sacco di opzioni per tirare fuori tutto quello che ti serve, qui c'è il nome del punto, latitudine, longitudine, gradi, primi, secondi, longitudine, gradi, primi, secondi, la quota ellisoidica e poi qua ci sono quattro valori legati alle precisioni, precisione orizzontale, precisione verticale e poi scomposta la precisione lungo la coordinata S e la coordinata Nord. Questo dato io lo devo prendere, lo devo portare dentro questo foglio di calcolo e poi ci devo fare tutte le elaborazioni che mi servono per poter poi creare i vari output, prima per Converg e poi per Structure for Motion Metashape. La prima cosa che faccio è allargare un po' gli spazi che ci sono tra questi numeri, utilizzo Notepad++ che è un editor di testo open source fantastico, ha un sacco di funzionalità, funziona veramente bene, quindi io vado su Sostituisci e gli dico di sostituire la virgola con un po' di spazi, così almeno vedo tutti quanti i campi distinti in maniera decisamente più netta. A questo punto devo prendere queste informazioni e devo portarle all'interno del file di testo, del foglio di calcolo. Io non utilizzo Excel, utilizzo LibreOffice, questo è il calc di LibreOffice, e allora con Notepad++ prendo piano piano tutte queste colonne che ci sono cliccando sull'angolo in alto a sinistra, tenendo schiacciato il tasto Alt e poi tasto sinistro del mouse, clicco e trascino fino in fondo, seleziono soltanto le colonne. Questa è una cosa fantastica di Notepad++ che ti permette di copiare soltanto le colonne, selezionare soltanto colonne e quindi copiarle. Vado qui dentro, faccio CTRL V, sposto un po' la tastiera perché sennò non riesco a lavorare bene, la alzo anche un attimo, è tutto in diretta. Lui mi dice guarda, importa queste informazioni nella prima colonna, gli dico di sì, ok. E qui è già tutto quanto uscito perché dovevo preparare l'ambito di lavoro un po' meglio, quindi torno indietro e facciamo così, creo un po' più di colonne, un po' più di righe qua sotto, quindi tasto destro, inserisci righe sotto e mettiamocene ancora un po', poi facciamo sempre in tempo a toglierle dopo, esageriamo, inserisci righe sotto, adesso posso ritornare su Notepad++, ho la selezione sempre attiva, CTRL C, CTRL V e qua mi incollo il nome del file, quello che non mi serve, quello che non mi serve, lo elimino. A questo punto devo portare dentro le coordinate, gradi, primi, secondi e la quota allessoidica, faccio latitudine e longitudine, faccio la solita cosa per la latitudine, ora vedo che è tutto quanto 42, anche la longitudine come gradi è tutto quanto 12, cambia qualcosa in termini di primi, qualcosa sulla latitudine, qui ci sono 51 e qua ci sono 52, per non sbagliare io copio e incollo tutto quanto, potresti scrivere senza problemi, ho sbagliato, potresti scrivere senza problemi il numero, quantomeno per il grado, ma io sono dell'idea che è meglio fare un passaggio in più, fare un copio e incollo del file di testo originale, senza evitare, quindi evitando di rischiare di mettere dentro dei dati sbagliati. Quindi andiamo avanti, faccio la solita cosa, sì non è velocissimo ma direi che non è neanche lunghissimo questo metodo di selezione per colonne, con questo metodo di selezione per colonne mi ci trovo molto bene, devi mettere, io metto dentro, ho colorato in maniera diversa le celle di questo foglio per capire quali sono i dati che io devo mettere in input e quali sono i dati che il software mi calcola sulla base delle formule che ho scritto qui dentro. I gradi sono praticamente, fanno una storia a sé perché non vengono mai modificati, in giallo invece ci sono le parti che io metto in input in termini di primi e in termini di secondi. In arancione ci sono dei calcoli, delle conversioni che vengono fatte sulla base poi di formule che ti faccio vedere. Quindi io devo riempire le colonne gialle e quindi mettiamo il secondi. Potrebbe essere che in funzione della impostazione che hai tu della lingua del software, soprattutto per quanto riguarda LibreOffice Calc, tu abbia come impostazione di separatore dei decimali la virgola e non il punto. Dovresti andare nelle impostazioni della lingua all'interno del software e scegliere un'impostazione che ti dia come possibilità quella di avere come separatore di decimali il punto e non la virgola. Ti dico questo perché io credo che sia un po' più comodo avere come separatore decimali il punto e la maggior parte dei software che hanno una provenienza americana o comunque inglese o comunque internazionalizzati utilizzano il punto perché è il separatore decimale utilizzato da tutti i software o comunque nel sistema anglosassone e quindi direi che è una sorta di separatore decimale un po' più universale, un po' come l'inglese la lingua universale, il punto è un separatore decimale universale. Puoi farlo veramente velocemente, adesso non lo facciamo in questo video, però credo che tu possa andare in strumenti opzioni e qui dentro accedi al pannello di controllo delle impostazioni, impostazioni internazionali lingua e riesci a capire qual è l'opzione migliore da mettere affinché tu abbia il punto come separatore decimale. Quindi ho messo i gradi, i primi e i secondi della longitudine, qua ho sbagliato a scrivere, qui mi si è scritto sicuramente qualcosa, questa è latitudine, non ne sono accorto adesso, latitudine, longitudine, ora quello che faccio è copiare fino in fondo le formule di queste colonne, adesso ti faccio vedere cosa sono queste formule e che cosa vogliono dire. Allora, questa formula praticamente suddivide, fa una conversione dei primi in un formato sessa decimale e in sostanza prende il valore del primo, lo divide per 60, il valore del secondo lo divide per 3600, c'è un fattore 60 ogni volta che passi dai primi ai secondi, 60 per 60 fa 3600. La stessa cosa succede per la longitudine, per i primi della longitudine, quindi sono i primi diviso 60 e dà un valore decimale, per i primi della, i secondi della longitudine sono i secondi diviso 3600. Queste colonne, queste colonne verdi, queste colonne azzurre, mi danno il risultato, mi danno la corrispondenza del grado, inteso come grado, dell'angolo scusa, inteso come grado primo e secondo, che poi è quello che io mi ritrovo nel file di testo da cui sono partito, questo qua, gradi, primi e secondi per la longitudine e lo stesso per la longitudine, e mi dà la corrispondenza in termini di valore decimale, sia in termini di espressione sessa decimale, sia in termini di espressione sessa decimale. Quindi ho voluto fare queste due colonne per avere sempre disponibili, per ogni punto, la misura dei gradi, perché l'attitudine e l'angitudine sono gradi, espressa nei tre sistemi principali, in realtà ce ne sono anche altri per i gradi, ci sono i centesimali radianti, non li utilizzo in questo caso, però ho gradi primi e secondi, gradi sessa decimali, gradi sessa gesimali. Gradi sessa decimali, guardando queste formule, quello che succede è, per calcolare la latitudine sessa decimale, quello che succede è che il software prende il grado della latitudine, ci mette una bella virgola e poi gli somma in realtà fa gradi più i primi convertiti con la formula che ti ho fatto vedere prima più i secondi convertiti con la formula che ti ho fatto vedere prima. Il valore complessivo è il grado sessa decimale. Il grado invece sessa gesimale ha una formula all'interno, quindi se io chiedo al software di farmi vedere qual è la formula che c'è dentro queste celle blu, la formula è questa, prendo il grado che non viene mai modificato, gli aggiungo il valore dei primi diviso 100 e poi gli aggiungo il valore dei primi diviso 10.000, quindi il fattore che scala, il fattore di passaggio tra i primi e i secondi è il fattore 100, nel caso dei sessa decimali è un fattore 60. A questo punto io ho il valore dei gradi sessa decimali e il valore dei gradi sessa gesimali. In fondo a questa colonna mi ci sono messo un promemoria per sapere che generalmente io porto dentro con vergo i gradi espressi in gradi sessa gesimali. La quota la devo portare dentro, non l'ho ancora portata, la Z è lissoidica, quindi vado qui, mi porto dentro il valore, copio tutta la colonna della quota, CTRL-C, CTRL-V, questo è il valore della quota, qui dentro poi ci inserirò la quota ortometrica e qui il software mi fa, il software, il foglio di calcolo mi fa una banale sottrazione tra la Z lissoidica e la Z ortometrica per sapere qual è l'ondulazione del geoide in quella zona. Questo succederà dopo la conversione con convergo e l'utilizzo dei grigliati. Qui dentro ci sono dei valori legati all'output, alla fine della conversione. Se sceglierò di fare delle conversioni verso un sistema proiettato potrò riempire queste celle col sistema di riferimento che utilizzo. Solitamente io lavoro o in ETRF2000, RDN2008 oppure in Roma40, sono questi sistemi di riferimento con cui lavoro che poi utilizzo all'interno del software Structure Performance. Qui mi ripete la quota, qui in fondo ci sono delle colonne in cui c'è scritto il valore delle precisioni misurate dallo strumento e sono questi i valori qui. Quindi ho il valore della precisione, ho sbagliato, click, alt e ho risbagliato, click, alt. Ok, il valore della precisione orizzontale, CTRL-C. Ho sbagliato, mi sto un po' incasinando. Allora, questo è il valore della precisione orizzontale. Seleziono CTRL-C. Quindi precisione in planimetria. Poi c'è il valore della precisione sulla verticale, quindi la precisione lungo la Z. CTRL-C. Che è questa. No, questa, scusa, lungo la AH, avevo dovuto magari scrivere Z, forse un po' più chiaro. E poi ci sono due valori delle precisioni. Precisione orizzontale, o meglio, precisione lungo la coordinata EST. Eccolo qui. E poi c'è la precisione lungo la coordinata NORTH. Questi sono valori che mi dà il controller dello strumento. E io gli chiedo di avere in output, perché sono dati che poi all'interno di Metashape, o meglio del software Structo from Motion, sono dati che riesco a utilizzare per perfezionare ancora di più l'informazione sulle precisioni. Qui in fondo ho ripetuto fondamentalmente quello che è all'inizio, perché magari essendo il foglio di calcolo un po' largo, può far comodo, per evitare di bloccare le celle, può far comodo magari avere le stesse informazioni all'inizio, anche nella parte finale, per cui se faccio doppio clic vado fino in fondo e ho l'ID dei punti per tutti i valori che corrispondono. Qua copia fondamentalmente la prima cella dove c'è il nome, l'ID del punto battuto. Questo qui, volendo se c'è un'informazione sul codice o descrizione, si può mettere anche qui dentro, in questo caso io non ce l'ho, ma se il rilievo è complesso potrebbero anche esserci come informazioni. A questo punto devo preparare il file per lavorare con Convergo. E da dove lo prendo? Le informazioni le prendo da qua. Quindi io faccio questo. Solitamente mi prendo tutti i punti, le copio, vado nel tab di Convergo, faccio tasto destro, in colla speciale, testo. E quindi lui mi porta dentro come testo, quindi non sono numeri, tutti gli ID dei punti che ho utilizzato. Ritorno qua e poi prendo queste tre colonne, latitudine, longitudine e Z lissoidica, che sono l'input che voglio utilizzare. e le porto, ho sbagliato, ecco qua. Faccio tasto destro, in colla speciale, numero, e le porto qua dentro. Se sei come me un po' patito delle precisioni, non delle precisioni, in senso topografiche, visivamente se ti infastidisce vedere questi scalini, e lo so, è una cosa che non ha veramente senso, però ognuno ha le sue piccole paturnie, io aumento i decimali mettendo lo zero dove mancava, perché in realtà lui non sbaglia, non c'era un'informazione, quindi lui l'ha cancellata facendo, diciamo così, facendo, risparmiando un carattere. Sulla quota questi sono un po' troppi, e quindi mi abbasso ai millimetri. Ok, questo dato, questo è quello che devo portare, magari salviamo, questo è quello che devo portare per creare il file di testo che devo utilizzare con Convergo. Seleziono tutto, ctrl-c, ritorno su notepad, plus plus, faccio un foglio nuovo, ctrl-v. Questo praticamente è già pronto, perché devo soltanto verificare quale sia l'elemento che c'è tra due numeri sulla stessa riga, in questo caso è la tabulazione. Salvo questo file come un, puoi dargli il nome che vuoi, gli do input. Magari input, non in con la M di Milano, in con la N di Novara. Input. Convergo. Lo salvo come file di testo. A questo punto vado su Convergo, lancio Convergo e Convergo mi incomincia a chiedere un po' di cose. Intanto mi dice qual è il sistema di coordinate in input. Questo lo devi sapere in base al rilievo che hai fatto. Io in base al rilievo che ho fatto, ho fatto un rilievo NRTK appoggiato alle basi fisse della rete, in questo caso SmartNet di Leica, e quindi i loro miri danno in output delle coordinate nel sistema di riferimento geografico RDN 2008, quindi alle TRF 2000. Che cosa vuoi avere in output? Questo state a decidere. Io voglio avere in output un sistema di riferimento proiettato, quindi piano, nelle coordinate UTM e TRF 2000, il fuso di riferimento in questo caso è il 33-6708. Dobbiamo fare un controllo, un attimo, su il formato di file. Il file di testo che voglio utilizzare è questo. Lo chiudo un po'. Formato file con liste coordinate. Qua c'è sostanzialmente da vedere che sia tutto conforme alle impostazioni, o meglio, come ho organizzato il file, TXT, che io porterò dentro Convergo. Quindi c'è il numero del punto? Sì. Scritta prima latitudine e longitudine, o viceversa? In questo caso, prima la latitudine e poi la longitudine. C'è la quota? Sì. Qual è il separatore fra i campi? Spazio o tabulazione. Il separatore decimale è il punto. Qual è l'unità di misura per gli angoli? In questo caso è il sesso decimale. Sesso e gesimale, scusa. Qui sotto ti dà anche una sorta di preview su come dovrebbe essere una riga del tuo file di testo che vuoi convertire. E più o meno ci siamo. Ok. Che cosa succede per la quota? La quota che mi stai dando in input, lui mi dice, che quota è? È di solidica, giuridica? O non ci devo fare niente? No, la devi modificare perché questa è una quota è lissoidica, io voglio una quota geoidica. E in output, questa è la colonna degli output, gli chiedi la quota, gli chiedi di darti la quota geoidica. Facciamo un controllo anche sul formato file con liste coordinate in output. Quindi, che cosa ci aspettiamo? Di avere un file dove ci sia il nome del punto, dove ci sia prima la coordinata est, poi la coordinata nord. Questo sta veramente a te in base alle tue necessità e in base a come preferisci avere in output il dato. Vuoi la quota? Sì, che è separato le decimali del punto. Spazio e tabulazione. Unità di misura per gli angoli non esiste perché facendo una trasformazione verso un sistema proiettato noi avremo in output delle misure lineari, quindi metri, e non avremo più in output degli angoli. Gli diamo ok. A questo punto dobbiamo portare il file qui dentro. Ci sono le opzioni di convergo. Tra le opzioni, in questo caso io sto utilizzando, utilizzerò un grigliato di trasformazione che ho preso da LGM, quindi gli chiedo di fare le trasformazioni solo in presenza di grigliati. Se c'è qualcosa che non va, avvertimi, perché per qualche motivo potrei aver sbagliato a inserire i dati, aver invertito le colonne, e se io non ho questo avviso, quindi se magari utilizzo un'opzione auto o cartlab, lui mi fa comunque la conversione senza dirmi che la zona che sto trattando è al di fuori dell'aria coperta da un grigliato, per cui voglio, in questo caso, per trasformazioni rigorose, voglio che la trasformazione avvenga solo in presenza di grigliati. Qui ci sono tutta un'altra serie di opzioni che puoi eventualmente vedere, però fondamentalmente, secondo me, la più importante è questo, e gli devi anche dire dove sono i grigliati all'interno del tuo computer, o comunque in un percorso a cui sa di poter accedere e, diciamo, attingere le informazioni che gli servono per fare la trasformazione. Il file, se vuoi, che è questo, input corbergo, ce lo puoi anche trascinare, a questo punto sei pronto, sei pronta per fare la trasformazione, e tu gli dici, converti di sta file, perché? Perché io gli ho preparato un file, sono tanti punti, non è un solo punto, e quindi voglio che la conversione la faccia contemporaneamente per tutti i punti in maniera molto veloce, piuttosto che stare io a scrivere punto per punto. Converti lista file, lui mi dice, ok, ti ho elaborato un file, questo vuol dire che l'elaborazione ha avuto successo, non ci sono stati problemi in termini di area coperta da un grigliato o grigliato mancante per quei punti, e quindi dovrebbe essere tutto a posto. Se gli do ok, convergo, rimane aperto, quello che lui ha fatto è mi ha creato un nuovo file, non mi ha cambiato il file originale, mi ha creato un nuovo file dove ci ha messo un suffisso, 6708, questo numero è il codice PSG del sistema di riferimento in output che ho chiesto di utilizzare, a convergo, è un sistema cartografico. Se io faccio tasto destro e faccio un edit with notepad, ecco di qua. Io qua ho i punti, sono assolutamente gli stessi punti che avevo prima, sono tutti listati qua, soltanto che adesso, che cos'ho? Ho una coordinata est, una coordinata nord e la quota ortometrica. Questi valori io li posso prendere e mi li vado a portare nel mio foglio di calcolo. Quindi prendiamo la colonna della coordinata est, la copio, la vado a mettere qua in generale per completezza. Questa è una cosa che forse non è necessaria, però a me piace avere un po' tutte quanto le cose messe per bene. coordinata est in collo. Faccio la stessa cosa con la coordinata nord. Ho detto coordinata ovest prima forse e che chiaramente non è la coordinata ovest ma è la coordinata nord. Control V il fuso se lo vuoi mettere, questo è un fuso 33N se lo vuoi mettere giusto per anche qua un po' per per completezza di informazioni tabellari non credo che servano a qualcuno qua ho sbagliato assolutamente non devi fare doppio click ma devi prendere e trascinare fino in fondo e lui sta continuando a fare delle aggiustamenti quindi selezioni tutto Control V e poi mettiamo dentro la quota ortometrica la quota ortometrica è interessante perché è un dato nuovo prima avevamo la quota elissoidica vediamo che cosa è successo e diamo anche un'occhiata all'ondulazione del geoide sappiamo che in Italia l'ondulazione del geoide va tra 40 e 50 metri quindi mi aspetto di avere un valore che stia qui in mezzo e eccolo qua io questo lo prendo lo porto fino in fondo chiaramente si fermava al dato che aveva rispetto al foglio di calcolo di partenza lui mi dice che l'ondulazione del geoide calcolata sullo SCART per ognuno di questi punti vale 47.7 e rotti e ci siamo nel senso che in Italia siamo tra i 40 e i 50 questo è una sorta di di controllo per vedere un po' che sia un po' tutto a posto questa la porta in fondo lui copia l'informazione della quota da questa colonna e ora siamo pronti per preparare il file che verrà utilizzato all'interno del software Structo from Motion e quindi cosa facciamo mi vado vado qui nel nel foglio legato qua ti ripeto ho scritto Metashape però potrebbe essere veramente qualunque software Structo from Motion prendo i punti perché i punti sono importanti faccio un incolla speciale testo e poi andiamo a prendere le coordinate nord le coordinate est e la quota che ho scritte nel tab generale coordinata nord coordinata est le seleziono tutte e due potevo metterci anche la quota in mezzo senza metterci il fuso così facevo un solo passaggio oppure potevo mettere il fuso prima magari lo modifico incolla speciale numero ok e poi prendiamo la quota la prendo da qui qui è importante fare un incolla numero perché questo io ho selezionato una colonna dove c'era una formula quindi tasto destra incolla speciale numero lui mi riporta la quota e poi vado a prendere le informazioni legate alla precisione est la precisione nord e la precisione lungo la z lungo la quota non prendo la precisione lungo la planimetria perché è già spacchettata nella est e nella nord quindi seleziono queste tre colonne ctrl c incolla speciale numero ctrl v a questo punto se siete come me se sei come me che vuoi sistemarti tutti i decimali avere tutte le tre cifre decimali ovunque aumenti e togli una cifra decimale sul numero sulla formatazione del numero questo veramente non ha senso è a posto a questo punto cosa devi fare devi prendere questo file devi prendere questi valori le selezioni tutti ctrl c vai di nuovo in notepad plus plus creo un nuovo file ctrl v a questo punto ho un file di test dove ci sono prima colonna il nome del file seconda colonna la coordinata nord la coordinata est la quota ortometrica i valori delle precisioni lungo l'est lungo la nord e lungo la verticale lungo la quota questo lo posso salvare come marker sfm e a questo punto mi sono creato il file che è pronto per essere importato all'interno del software structure from motion che cosa succede dentro il software structure from motion che io avrò materializzato in realtà questo è un caso un po' complesso perché tutti questi punti sono afferenti a più aree che ho elaborato in maniera separata ci sono questi marker e questi marker li devo rinominare in modo tale che il nome di questo marker faccia scopa con il nome del punto quindi dato che è compreso all'interno della prima colonna una volta che l'avrò fatto posso importare qui dentro utilizzando il pannello di importazione il file di testo dove lui va a prendere il valore dove va a prendere il file che ho preparato adesso non lo faccio perché non è ancora pronta la parte all'interno del software extract from motion gli dici qual è il sistema di riferimento ora sto utilizzando davvero metashape ma non è necessario utilizzare metashape se ne possono utilizzare degli altri scegli qual è il valore corrispondente a ciascuna colonna che vedi eventualmente puoi schippare delle righe e quando sei pronto dai ok lui ti porterà dentro le coordinate di questi punti e le andrà a sostituire con i punti che corrispondono ai tuoi ai tuoi marker questo è un po' quello che è quello che faccio è quello che ho fatto per questo lavoro l'ho fatto veramente in diretta con te facendoti vedere qual è il mio flusso di lavoro per quanto riguarda il trattamento delle coordinate in questo caso gps ma avrebbero potuto essere anche coordinate prese con la stazione totale orientata su punti gps in quel caso probabilmente avrei avuto se ho orientato la stazione totale su dei punti l'ho orientata con delle misure lineari quindi tutta la parte di conversione forse mi poteva me la sarei potuta saltare però questo è quello che faccio ti ripeto non è non è non so se è la cosa migliore da fare ma è la cosa con cui mi trovo meglio e con cui ho trovato il mio flusso di lavoro come vedi quanto tempo ci ha messo adesso guardo la registrazione più o meno una mezz'oretta hai gestito i punti che derivano dal tuo rilievo si tratta poi di portarli dentro software structure from motion e fare le altre elaborazioni però comunque è un tempo credo che sia abbastanza ragionevole c'è da stare un attimo attenti per capire quali sono le misure di angoli o meglio le unità di misure di angoli gradi gradi sessagesimali gradi sessadecimali e scegliere essere sicuri di quello che si sta facendo ma tutto sommato non è niente di complesso questo foglio di calcolo è disponibile però per i finanziatori di 3Dmetrica perché ci sono persone che hanno scelto di finanziare 3Dmetrica al progetto di 3Dmetrica con dei finanziamenti anche di livello abbastanza alto e quindi io gli metto a disposizione gli strumenti che utilizzo per lavoro però non è complesso costruire su un foglio di calcolo di questo tipo hai visto come sono fatte le celle sono abbastanza semplici e niente se ti va di collegarti con 3Dmetrica puoi farlo puoi arrivare un po' a vedere che cosa c'è intorno a 3Dmetrica all'indirizzo 3Dmetrica.it oppure puoi iscriverti al canale telegram di 3Dmetrica telegram.me slash 3Dmetrica e li trovi anche un po' dietro le quinte e di cose un po' più un po' meno formale a parte che di formale che riguarda 3Dmetrica non c'è molto e altrimenti se pensi che queste cose siano utili se ti sono utili per il tuo lavoro se pensi che possa valere la pena supportarmi e supportare 3Dmetrica puoi diventare un finanziatore una finanziatrice di 3Dmetrica e quindi darmi il tuo contributo fattivo e concreto rendendo ancora più sostenibile questo percorso se ti va lo puoi fare 3Dmetrica.it slash supporta li trovi un po' di informazioni in più e un link per arrivare a una pagina di crowdfunding che è il metodo che ho scelto per rendere disponibile a chi vuole la possibilità di supportarmi ti ringrazio per aver visto questo video ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradeghini grazie